Il passo avanti sarebbe fare un governo subito di grande coalizione, subito per il Paese, se no elezioni, elezioni già a fine giugno. Questa è la nostra posizione che non muta di un millimetro, la rideremo a Bari sabato prossimo, non muta di un millimetro. O si fa un governo di grande coalizione con le maggiori forze che hanno avuto i consensi degli italiani e che vogliono governare da subito, oppure le elezioni. Non si può andare avanti così, non si sogni neppure il Bersani di pensare di pretendere dal nuovo Presidente della Repubblica quello che Napolitano non gli ha consentito, cioè di presentarsi alle Camere senza una maggioranza precostituita. Sarebbe un colpo di mano, direi un colpo di Stato.